Tira Pietro, sempre al tuo fianco. L'ufficina Tira Pietro, costituita nel 1961, si occupa dell'assistenza ai veicoli industriali e rimorchi con servizio di soccorso stradale ACI. L'ufficina, autorizzata Iveco, dispone delle più moderne attrezzature anche diagnostiche, in grado di consentire un'accurata assistenza 24 ore su 24. Dotata di 10 veicoli speciali con vari allestimenti per soccorso stradale, presta servizio con personale altamente qualificato. Dispone altresì di un reparto specifico dove revisione idroguide e servosterzi. Grazie a tutti!